47 anni, viceministro dell'economia, responsabile economico del Partito Democratico, Bersaniano I, Cuperliano Adesso, Stefano Fassina, in Parlamento da febbraio, è l'ala più sinistra del PD. Iscritto al Partito Comunista dalla primavera del 1986, quando era studente della Bocconi, rettore Mario Monti, Fassina è stato consigliere di Ciampi al Tesoro nel Prodi I e successivamente chiamato da Visco alle Finanze nel Prodi II. Nel mezzo, cinque anni a Washington al Fondo Monetario Internazionale. Di lui si sente parlare spesso per le sue polemiche. Il rapporto con Matteo Renzi, per esempio, non gli piace, le sue riforme economiche hanno un valore finanziario pari a zero, ha scritto recentemente sul suo blog, ma siccome crede anche che i partiti sono famiglie molto allargate, dice anche. Il PD è orgoglioso di avere una figura come Renzi tra le proprie fila. La verità, però, è che a Fassina il rottamatore non piace affatto. Il sentimento ha radici lontane. Il sindaco di Firenze? Un figlio di papà e un portaborse miracolato, scrisse due anni fa su Facebook. La replica. Fassina non accoglierebbe voti neppure dall'assemblea di condominio del suo palazzo. Di solito le sue prese di posizione puntano al cuore intransigente dell'elettorato di sinistra. Se l'è presa con Maradona, che è in tv da Fazio, aveva fatto il gesto dell'ombrello a Equitalia. È un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione e Maradona farebbe bene a imparare a rispettare le leggi. Anche se di evasione, Fassina aveva parlato pure in termini più tolleranti, quando, durante un convegno di commercio, disse. Evasione di sopravvivenza, perché non è prevalentemente una questione di carattere morale, come dire. Seguirono polemiche e l'appoggio, inaspettato, nel capogruppo del PDL Brunetta, che al viceministro diede addirittura il benvenuto nel PDL. Essere nemico dei ricchi non ha sottratto Fassina all'eire della piazza. Uscito per prendere una boccata d'aria dopo la rielezione di Napolitano, Fassina si trovò di fronte a un gruppo di grillini inviperiti, che accusavano lui e il PD di essersi piegati alle indicazioni di Berlusconi. Dopo il varo della legge di stabilità, Fassina, che alla delega sul fisco, ha minacciato lo strappo. Sentendosi tagliato fuori dalle scelte strategiche sulla manovra, minaccia le dimissioni. Questione rientrata dopo un chiarimento con Enrico Letta, con cui, per la verità, i rapporti sono da tempo un po' tesi. Un anno fa il motivo della polemica era Mario Monti, ancora presidente del Consiglio. In un lungo intervento sul foglio, Fassina propose di rottamarne l'agenda e di scriverne una nuova. Troppo per l'allora vicepresidente del PD, che rispose. Caro Fassina, hai passato il segno. Il rapporto tra Fassina e Monti, comunque, è complicato dai tempi dell'università. Studente il viceministro, rettore della Bocconi, il professore. Lui, Monti, in campagna elettorale disse. Io credo che tagliare le ali, che in genere è una brutta espressione, ma se per ali intendiamo le estreme, credo che sia una buona cosa. Fassina rispose. Solo in Italia le posizioni che mettono in evidenza il fallimento dell'austerità vengono considerate troppo di sinistra. E oggi da sinistra portano in palmo di mano Fassina il capo della CGL Susanna Camusso e il vecchio timoniere di Essino, Massimo D'Alema. Entrambi, secondo ricostruzioni di stampa, pensano a lui come futuro candidato premier accanto a Renzi segretario.